Le edizioni Amrita sono state per noi il primo approccio con una casa editrice che lavorasse nei termini di qualità e di messaggio professionalmente seguito, per cui sono un punto fermo nella nostra storia editoriale. Amrita è una casa editrice vera, questo è il riassunto della nostra esperienza, in un ambito particolare perché è settoriale ma è una casa editrice. Tra l'altro avendo lavorato nel giornalismo un sacco di anni qualcosa ne capisco, quindi lo posso dire con cognizione di causa. Grazie a tutti.